bella a tutti fourniters benvenuti e bentrovati su leontube eccoci in questo video per andare a vedere il negozio oggetto di oggi 27 luglio arriva il bundle di ball e wolverine con la skin di wolverine con o senza maschera poi abbiamo il dorso decorativo scherzo di wade dove cambia il il disegno icone artigli di wolverine poi le motte snitte scatenati il deltaplano wolverine aerostatico e la cooperatura giallo blu classico non male questo stile misto tra normale cartoon poi abbiamo ditball penino e china con o senza maschera con la frecce in testa oppure senza torsio decorativo head pool piccone catane di ditball le motte cosa ma dai il deltaplano ditball aerostatico la copertura copertura la copertura copertura pool poi abbiamo la chitarra 6 cord di wolverine il basso di ditball e 3600 vbh per questo bundle qua oppure possiamo prendere 2000 solo quello di ditball o 2000 solo quello di wolverine poi abbiamo il bundle squadra 3 strisce il bundle buga alia cypher vk lachlan in the graph build chica il bundle pirati dei garaibi stile distintivo bundle del re dorato con vita in doppio stile normale oppure ombra reattivo si oppure no piccone il tocco d'oro che lui versione stile ombra normale copertura ascesa dorata poi il bundle but killer streetwear poi abbiamo testa addosso carina questa skin zaino bruciatore come dorso decorativo poi abbiamo dominatrice devastatore re abyssal con senza bagliore dorso decorativo razziatore dorsale qua abbiamo il piccone jai alai e il lemut spettacolare poi abbiamo specialista survivalista eccola qua surfista e il dorso decorativo onde corte piccone doppio filo e mut con il punto del braccio dance avvoltoio dorso decorativo zaino di contenimento riders della scia col dorso decorativo carburante navale poi abbiamo ARK agente del caos ARK con le sue ali agente del caos luminos scheletare ma capire li abbiamo visti ieri il flusso fortnite il bundle N2 bundle Centio bundle CCFN capitolo 5 stagione 1 bundle campionato globale CCFN 2023 bundle CCFN capitolo 5 stagione 3 bundle CCFN capitolo 5 stagione 2 accendete i motori bundle per green TT turbo incantor ruota crescita ruota per crescita ruota e boost e sine wave pacchetto scala livelli poi attrezzatevi per il festival abbiamo le mot tasti a razzo e le mot brucia il basso poi abbiamo la batteria amante di prodigiosa e la chitarra a chelotto poi tutte le tracce gem il bundle metallica per lego fortnite durburger con manzo boss arredamento stile di vita lucente con bombarola lucente poi abbiamo la crew di fortnite il pass ancora vel valedette tutti i vari pass e bundle e diciamo oltre a questi c'è anche salvo del mondo non disponibile per la switch se il video ragazzi vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti